14-22 luglio. Torna per il terzo anno consecutivo a Gubbio il torneo internazionale di tennis maschile Futures Memorial Francesco Ledda, con l'organizzazione del circolo tennis di Gubbio. 15.000 dollari il monte premi per un torneo che, ha detto Corrado Monaco e della Federazione Tennistica Umbra in occasione della conferenza stampa a Palazzo Pretorio, dà l'occasione a tanti giovani di mettersi alla prova e provare ad emergere in una selezione in campo severa, dove non mancano vecchie volpi del panorama tennistico a dare filo da torcere. Direttore del torneo Luca Ceccarelli. In realtà il torneo è aperto a tutti, però essendo il primo step dei tornei che forniscono punti ATP, quei punti per scalare la classifica mondiale, di fatto viene interpretato e giocato soprattutto da ragazzi giovani, quindi 20 anni, 21 anni, 22 anni, e sono quelli che poi noi ci aspettiamo di vedere per televisione gli anni successivi. Quindi questa è la terza edizione, è già capitato, quindi dei giocatori che hanno giocato il nostro primo torneo e poi abbiamo avuto il piacere di non rivederli a Roland Garros, a Roma, a Wimbledon. In campo per Gubbio scenderanno Lorenzo Vergari, classe 96, per il tabellone di qualificazione e Andrea Militi, classe 99, per il tabellone principale. Collaborazione per questo torneo tra i comuni di Gubbio, rappresentato in sala dal sindaco Stirati e dall'assessore Damiani, e Cantiano, presente il vice sindaco Mirko Sebastiani, che ospita nei suoi campi gli allenamenti del torneo. Per Gubbio è una nuova occasione mettersi in vetrina attraverso lo sport e di far apprezzare ad un pubblico internazionale la sua bellezza, con una vista che già dai campi di Via Leonardo da Vinci è assolutamente unica. Gli atleti sono 32 per il tabellone principale e 32 per le qualificazioni, come qualsiasi altro torneo ATP nel mondo, quindi quello è un format oramai definito. Per Gubbio cosa rappresenta? Rappresenta mettere in evidenza un posto bellissimo, che è il nostro circolo, localizzato in una situazione splendida, perché quello che vediamo noi all'uscita del circolo penso che non lo vedano neanche a Wimbledon o a Roland Garros, perché insomma ci abbiamo di fronte il teatro romano e tra l'altro la nostra locandina mette proprio in evidenza questo scorso di teatro romano con dietro la città di Pietra, della quale siamo particolarmente orgogliosi.